Un viaggio in sella ad un'onda Africa Queen per scoprire luoghi e segreti di una terra magica come la Sardegna. Cornice ideale per realizzare un documentario di viaggio scavando all'interno di paesaggi e storie lungo le emozionanti strade che percorrono questa terra. Non si può desiderare compagna di viaggio migliore di Honda Africa Queen Adventure Sport, una moto nata per le lunghe tratte, potente ma sicura con la capacità di farti sentire padrone della strada. 2000 chilometri per forse in sella a questo destriero affrontando venti di maestrale con raffiche da oltre 50 nodi e curve sinuose in cui divertirsi con il cambio manuale. Nel nostro viaggio abbiamo fatto tappa lungo le strade della costa nord-occidentale dell'isola che nonostante le condizioni meteo estreme ha regalato emozioni uniche come lungo la litoranea algarobosa tratto d'asfalto famoso tra gli appassionati delle due ruote per le sue curve a picco sul mare. Affrontando curve sterrate immersi nella natura incontaminata abbiamo attraversato le suggestive zone della penisola del Sinis, per continuare più a sud verso spiagge oceaniche ed enormi dume dei sabbia, fino a concludere la tappa nel Sulcis, tra le sue vecchie miniere simbolo di un passato difficile da dimenticare, scoprendo la doppia anima di una terra che sa essere al contempo popolare e dimenticata. L'ultima tappa del viaggio ci ha portati nel sud della Sardegna, lungo la literanea tra Teulada e Capo Spartivento, che con le sue dolci curve a bordo scogliera permette ad ogni motociclista di godere del proprio viaggio insieme alla bellezza del mare sotto gli occhi. Honda Africa Queen si è dimostrata una fedele compagna di viaggio, con eccellenti doti dinamiche del motore bicilindrico da 102 cavalli e consumi che si sono fermati di media ai 18 chilometri con un litro. Dopo aver percorso sterrati, attraversato colline, boschi, spiagge e montagne, questo viaggio è stato l'occasione per godere del piacere di un onde roto su due ruote che ci ha permesso di conoscere e raccontare luoghi e persone che insieme rendono la Sardegna una delle zone più incredibili d'Italia. Grazie a tutti!